Molte opere in cantiere, ma nessuna logica alla base della loro realizzazione e nessun coinvolgimento da parte della cittadinanza circa la loro progettazione. E' la critica che arriva da Legambiente, che con una nota chiede che si passi a considerare in modo organico tutti i progetti che riguardano Molfetta e l'area portuale. Finora, spiega l'associazione ambientale, progetti spot e interventi scollegati tra loro. Se Legambiente sostiene da anni che è indispensabile una visione d'insieme di tutto il fronte mare e che l'importanza storica e paesaggistica dell'area pretende un concorso internazionale, l'area portuale di Molfetta continua invece ad essere oggetto di azioni e interventi progettuali, la cui coerenza non sembra interessare a nessuno. Nelle scorse settimane si legge nella nota due opere pubbliche, Il Porto Vecchio e La Banchina San Domenico. Per entrambe è stata avviata la fase di progettazione che toccherà bene i culturali di primo rilievo ai luoghi simbolo della città. In particolare per la Banchina San Domenico si tratterà di riqualificare un'area pedonale dopo aver acquisito tempo fa, a titolo di proposta volontaria, un progetto definitivo. Approvati anche i progetti esecutivi per la riqualificazione di Via Dante, Banchina Seminario e di nuovo Banchina San Domenico nell'ambito di un piano di intervento finanziato con fondi Expo 2015 per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro. Giunge al traguardo un altro progetto esecutivo la cui realizzazione interesserà sempre l'area portuale, il centro servizi del Porto Nuovo, che oltre ai lavori di messa in sicurezza riguarderà la grande opera i cui contorni e le cui prospettive appaiono ancora tutt'altro che chiare. C'è poi un altro piano, il PIRP del Rione Madonna dei Martiri, un importante programma di rigenerazione urbana che nelle intenzioni vorrebbe eliminare i fattori che lasciano questo quartiere ai margini della struttura urbana molfettese, ma che è diventato inefficace dopo essere stato mutilato in seguito ad una variante approvata recentemente. Tutti questi progetti, continua l'engambiente, risultano slegati tra loro. Inoltre, fino a questo momento, si tratta di iniziative che non sono state pubblicizzate né socializzate alla cittadinanza, secondo le forme che pure sono state adottate e rivendicate per altri luoghi. Siamo di fronte, conclude l'engambiente, ad una questione di fondo, l'assenza di una visione di sviluppo integrato dell'area portuale.